puoi mandare un messaggio a dottor Nicola Gratteri per il suo nuovo incarico come procuratore di Napoli in pratica dottor Gratteri ricordiamo che lui ha fatto delle battaglie importanti contro l'andrangheta di cui ha veramente dato dei colpi ha inferto dei colpi mortali all'andrangheta ancora oggi è un'organizzazione più potente d'Europa e uno dei più potenti al mondo però giustamente ha dato molto fastidio questa organizzazione criminale e si dice che addirittura forse la massoneria avrebbe fatto per modo di farlo da scrivere a Napoli ma penso che a Napoli lui sarà un uomo di punta nella battaglia contro l'andrangheta organizzata che lui avrebbe detto che la camorra sarebbe la prima mafia che è la prima mafia che sparirebbe qualora ci fosse il declino delle mafie non sono molto d'accordo anche se non voglio mettere in discussione quello di Nicola Gratteri lui è molto di competenza per me in questa materia però esprime la mia opinione la camorra c'è purtroppo è come se c'è l'alleanza secondigliani casaresi che sono non solo a livello dell'andrangheta come potenza questo sì come potenza di influenza come corruzione come alti livelli questo e quell'altro è anche l'inferiore a quota nostra per me che è il declino però a camorra c'è come se nei comuni infiltrazioni comunali gli appalti questo e quell'altro in tutta la campagna e non solo fuori anche fuori quindi c'è esiste il fenomeno camorristico va debellato va sconfitto e con procuratori come Gratteri c'è grande speranza c'è la voglia e speriamo che era l'entusiasmo giusto per poter dire lottiamola contro la camorra e estirpiamola però il fenomeno camorristico c'è come magari non è a livello dell'andrangheta perché l'andrangheta è molto superiore perché c'è la conservanza le regole osservano a me c'è pochi pentiti anche se ho pentiti in giornalamento però non come una camorra che dopo un giorno di carcere quando sono venuti a fare i pentiti si portano a presso 40 persone fanno un metro in a Napoli con 90 persone ma in Napoli è di moda invece in calabria è una casa isolato quindi Gratteri c'è un bel da fare qui con noi anche però ci si auguro che facciamo un buon percorso lavorativo e ci siano i risultati sperati